Il coraggio me lo insegnano loro a me, i bambini che sono qui, le persone che sono qui. I bambini perché tendenzialmente le loro paure, anzi loro non hanno paure, è come se non le avessero. E quindi è il coraggio che loro danno a me di sorridere, perché tante volte ci mettiamo lì in un angolo e diciamo non va bene questo, non va bene quello, non va bene quello, vieni qui, incontri questi ragazzini, anche mamme e papà che purtroppo hanno i loro figli e vedi che hanno più energia di tutti, che vedono il sole ovunque, che hanno un sorriso, che hanno un pensiero bello e che hanno tanta forza. Questo è veramente da ammirare e penso che sia il coraggio più grande, sinceramente. Quindi auguro buon Natale a tutti, che possa essere un anno pieno di amore, soprattutto salute, e quello che insegnano loro è proprio il dare amore condizionato e non pensare a tutte le cazzate, a pensare veramente alle cose serie, perché ce n'è bisogno, c'è bisogno di amore e di serenità. Grazie a tutti. Allora.